Bentornati su Sfruttibook! Oggi prepareremo qualcosa che non può mancare sulle tavole italiane, pane casarecce. In una ciotola versiamo la farina. Dividiamo l'acqua in due parti uguali. In un bicchiere aggiungiamo il lievito e lo zucchero. Nell'altro l'olio e il sale. In un bicchiere aggiungiamo il lievito e lo zucchero. In un bicchiere aggiungiamo il lievito. L'impasto è pronto, ora possiamo lasciarlo lievitare per circa due ore. L'impasto è lievitato, ora possiamo preparare il pane casareccio. Segniamo il nostro pane e lo forniamo a 180 gradi per circa un'ora. Il nostro pane casareccio è pronto, ora preparalo anche tu.